Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video su Gams Go, la piattaforma che ti fa risparmiare sugli abbonamenti come Netflix, Disney+, Paramount+, e ovviamente c'è anche Crunchyro, la piattaforma dove puoi vedere gli anime, ovviamente tu puoi vedere tutti i tuoi anime preferiti ad un costo veramente bassissimo. Quindi in questo caso se vai ad iscriverti direttamente sui 3 mesi paghi direttamente 9,99€ più il codice scone arrivi al 9,50€ in 3 mesi. Ovviamente puoi anche comprare quello da 6 mesi, 19,98€ più il codice sconto che vedi sullo schermo e ti può arrivare fino a 19€ oppure sotto i 19€. Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina di Gams Go e quindi come funziona. Una volta entrati così sulla pagina di Gams Go, questa è Gams Go, vai direttamente sul tuo servizio che vuoi comprare, Crunchyro, questo qua, vai su questa personcina qua in alto a destra e fai direttamente accedi. Quindi in questo caso accedi direttamente con il tuo profilo, quindi con il tuo account Google, così facendo quando andrai a comprare l'abbonamento ti manderanno per via email le credenziali, quindi l'email e la password. Ed eccolo qua. Quindi in questo caso per darti un piccolo esempio, io che compro Paramount Plus e che mi danno così le credenziali su abbonamento, quindi vai a cliccare sulla personcina qua sopra in alto a destra sul tuo profilo e vai a cliccare sul mio abbonamento. Ed eccolo qua. Ovviamente questi sono abbonamenti che avevo comprato tanto tempo fa come Paramount Plus, Disney Plus e tutte le piattaforme Netflix. E qui troverai la password e l'email e il profilo da cliccare per vedere la tua serie. Quindi in questo caso sempre il codice sconto qua sotto. Ovviamente Gamsco ha la consegna temporale, quindi in questo caso come vedi appena compri un servizio, dopo un paio di secondi oppure aggiorni la pagina, ti esce già sul tuo abbonamento. Il supporto in diretta su 24 ore su 24, 7 giorni su 7, reset d'abito, adeguato con sottoscrittori. Ovviamente ti danno pure la garanzia di rimborsa se non ti piace, quindi hai comprato così un articolo, lo usi poi non ti piace, puoi direttamente chiedere un rimborso e basta. La piattaforma Gamsco ha più di 1.500.000 utenti che hanno usato così il servizio e più di 500.000 utenti attivi sulla piattaforma. Quindi in questo caso se ti fa comodo risparmiare sulle piattaforme come Gamsco, iscriviti, lascia un like e mi raccomando se hai problemi puoi entrare direttamente nel mio server Discord, chiedere a me direttamente in privato se hai problemi oppure se hai altri problemi ancora puoi scrivermi direttamente su Instagram in privato. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!